A partire dal prossimo 24 luglio prende il via la quarta edizione del Festival della Teologia Incontri sul tema della giustizia. A ricevere il premio Incontri 2021 il direttore del carcere di Nisida Gianluca Guida che nella prima serata in programma Vallo della Lucania sarà premiato da sua eccellenza Monsignor Ciro Miniero. A parlarci del programma è l'idiatore del festival Vito Rizzo. Quest'anno iniziamo con l'anteprima del festival che è il conferimento del premio il 24 luglio a Vallo della Lucania. L'idea è di legarlo anche alla festa in onore di San Pantaleone quindi in prossimità della festa il conferimento del premio. Il tema di quest'anno è la giustizia e quindi il Vescovo su eccellenza Ciro Miniero conferirà il premio a Gianluca Guida che è il direttore del carcere di Nisida, del carcere Minorili. L'idea è quella di premiare un'esperienza di una giustizia vissuta non per punire ma per recuperare l'umanità e quindi una bellissima testimonianza come ogni anno cercheremo di arricchire le serate anche con dei momenti di carattere artistico. Quindi nel corso della serata del 24 avremo una performance teatrale con un testo di Edoardo De Filippo e quindi ci sarà Franco Formisano che interpreterà Depretore Vincenzo. Poi a partire dal 3 agosto quindi 3, 4 e 5 agosto si svolgerà il festival tradizionale, il festival itinerante. L'anno scorso abbiamo dovuto farlo in maniera stanziale ad Agropoli. Quest'anno ritorniamo con il festival itinerante e toccheremo tre diocesi. Quindi la diocesi di Salerno Campagnacerno quindi con la tappa del 3 agosto a Caggiano. In quell'occasione il professor Gaetano De Simone che insegna a Roma, a Napoli e anche a Salerno toccherà il tema della giustizia umana e della giustizia divina. Poi ci sarà una performance artistica di due ballerini, quindi una performance di danza, il primo giorno il teatro, il secondo la danza e poi avremo come ospiti per ogni serata una donna impegnata nel campo della giustizia che leggerà un passo del Magistero e quindi nell'occasione del 3 agosto a Caggiano ci sarà la dottoressa Consuelo Ascolese che leggerà un passo, un testo di San Giovanni Paolo II sulla giustizia. Poi ci sposteremo il 4 agosto a Teggiano, anche lì diocesi di Teggiano Policastro e in quell'occasione ci sarà Don Tonino Palmese che oltre ad essere docente presso l'Università di Napoli, la sezione San Tommaso e anche il responsabile regionale di Libera e lui toccherà il tema della giustizia riparativa, cioè la giustizia che mira a riconciliare l'umanità sia del reo che della vittima, quindi un altro tema affascinante. In quell'occasione avremo una performance jazz perché la vice adulti di azione cattolica della diocesi di Teggiano è una musicista e quindi ci sarà questa sua performance e a concludere la serata interverrà il magistrato Katia Cardillo che leggerà un testo sulla giustizia di San Giovanni Paolo II. Poi completeremo questo itinerario il 5 agosto ad Agropoli, in quell'occasione interverrà Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Cascio che è stato docente, è un biblista ed è stato docente di Saga Scrittura sia all'Istituto di Vallo della Lucania, dell'Istituto Teologico Salernitano e toccherà il Salmo 85, quindi quando giustizia e pace si baceranno, quindi una lettura attraverso le pagine della Bibbia. In quell'occasione avremo un omaggio che Dino Zero farà al festival, una performance su uno dei testi più poetici di Renato Zero e poi a concludere la serata ci sarà l'avvocato Maria Felicità Rocco che leggerà un testo sulla giustizia di Papa Francesco, quindi un programma veramente molto ricco che poi quest'anno si è ulteriormente arricchito con la mostra itinerante Ecce Omo, il Vangelo nelle opere di Andrea Guida, ad Agropoli è una mostra attualmente ancora in corso perché abbiamo deciso di prorogarla fino a fine luglio, un bellissimo cammino spirituale e umano attraverso le opere di questo grande artista Andrea che guida e poi la stessa mostra sarà portata la prima quindicina di agosto a Caggiano e la seconda quindicina di agosto a Teggiano, quindi veramente un programma molto ricco e intenso. Naturalmente Cilento Channel è partner di questa iniziativa e allora per evitare concomitanze abbiamo deciso di anticipare le serate del festival su Cilento Channel mandando in onda la premiazione del 24 il 2 agosto, quindi nella prima serata del 2 agosto ci sarà la premiazione del premio incontri e poi a partire dal 3 agosto, il 3, 4 e 5 agosto la diretta televisiva per tutti i telespettatori di Cilento Channel, quindi un sodalizio questo che si conferma veramente un legame forte perché come abbiamo visto anche l'anno scorso consente a tantissime persone che vivono anche all'estero o in altre parti d'Italia soprattutto attraverso i canali social e la diretta streaming di seguire questo bellissimo evento. Naturalmente attore principale del festival è anche l'azione cattolica della diocesi di Vallo della Lucania che però quest'anno proprio in questo gemellaggio con le altre diocesi ha potuto sperimentare il supporto dell'azione cattolica della diocesi di Salerno Campania e della diocesi di Teggiano Policastro, quindi è stato anche questo un momento di crescita e di collaborazione molto bello e si spera appunto che questa iniziativa come la quarta edizione dimostra possa crescere sempre più, arricchirsi sempre più e portare all'attenzione del grande pubblico delle tematiche importanti di confronto, di riflessione sia umana che spirituale.